Sì Le buona Grazie Adesso Sì Go Abbiamo avuto tre inseguimenti di pesci, comunque dei bei pesci, non dei mostri, ma bei pesci. Le previsioni ci hanno tradito, c'è alta pressione e non è certo una giornata buona, non c'è per niente attività. Bisogna insistere e cercare una cattura perché alla fine si sta cercando un pesce. Eeeh, non abbiamo preso un cazzo. L'attività è pari a zero. Sì Grande Sempre il primo Sì 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 Bella Mi ha strappato proprio la canna di mano Sì